Fermata la talpa. Il gran giurì della pubblicità ha bocciato gli spot di Sky con protagonista Hugo Latalpa e Fiorello. Il motivo? Lo spot sarebbe denigratorio nei confronti dei clienti del digitale terrestre. La polemica è nata dopo che Sky stessa aveva presentato un esposto contro la pubblicità comparativa del digitale, bocciata anch'essa dal gran giurì. A questo punto Mediaset ha a sua volta presentato istanza contro lo spot di Sky. La guerra fredda fra Sky e Mediaset continua. Sky e Mediaset